Rousseau Buongiorno a tutti, nella lezione di oggi continuiamo a parlare di Rousseau e tratteremo un altro dei grandi discorsi del filosofo ginevrino, cioè il discorso sull'origine della disuguaglianza. Noi abbiamo visto nella scorsa lezione come nel 1750 Rousseau avesse già partecipato a un primo concorso con il suo discorso sulle scienze e sulle arti. Ecco qui faccio un'errata corrige perché avevo detto forse nella scorsa video-lezione che Rousseau non vince il premio con quel discorso, invece sì, con quel discorso lui vince il premio nel 1750, non lo vincerà invece nel 1753 con questo discorso che è ancora più controverso di quello che abbiamo visto nell'ultima lezione. Ecco, qual è il tema lanciato in quest'anno dall'Accademia di Digione? Il tema è un altro soggetto tipicamente illuminista, cioè l'Accademia di Digione chiede di fare un elaborato per rispondere alla domanda su qual è l'origine della disuguaglianza tra gli uomini e se questa disuguaglianza è autorizzata dalla legge naturale, cioè è conforme alla legge di natura. Allora, Rousseau scriverà appunto questo discorso e in questa sua opera possiamo dire che la critica della società moderna che avevamo già trovato nel suo primo discorso in verità qui diventa molto più ampia e diventa una critica un po' di tutto il progresso e tutta la civiltà umana. Ed è qui che Rousseau parlerà in maniera compiuta per la prima volta dello stato di natura, nel senso che secondo Rousseau la vera ponte dei valori dell'uomo è la natura, la sua naturalità, il suo aspetto istintivo e sentimentale, se vogliamo. Quindi già qui vediamo come Rousseau si distacca nettamente dall'illuminismo. Sentimento contrapposto a ragione, Rousseau dà grande prevalenza in questo caso al sentimento, all'aspetto istintivo. Ecco, nello stato di natura, secondo Rousseau, l'uomo è pienamente un essere naturale, invece, nello stato propriamente detto, lo stato artificiale, possiamo dire, ecco, gli uomini non sono più quelle creature innocenti, quelle creature di Dio, hanno perso la loro spontaneità naturale e quindi nello stato artificiale gli uomini sono anch'essi diventati degli uomini artificiali. Ecco, quindi, lo stato di natura di Rousseau è molto diverso da quelli di Hobbes e di Locke. È proprio uno stato di innocenza dell'uomo, di felicità per l'uomo. Perché? Perché il male, secondo Rousseau, è nella storia, nello sviluppo della civiltà, non è nella natura dell'uomo. Quindi vediamo come, ad esempio, invece, lo stato di Hobbes fosse uno stato di guerra con lo stato di natura di Hobbes, uno stato di guerra di tutti contro tutti, lo stato di natura di Locke, uno stato cui governato dalla legge naturale, ma cui comunque i diritti dell'uomo non erano rispettati. Ecco, in verità, lo stato di natura di Rousseau adesso faremo delle letture decisamente più positivo. Ecco, anche in questo caso, teniamo sempre in presente, l'abbiamo detto sin dalla prima lezione sul giusnaturalismo, lo stato di natura, e lo stesso Rousseau a dirlo, è uno stato che non esiste più, che non è mai esistito e che forse non esisterà mai. Nel senso, è proprio una costruzione ipotetica che Rousseau, non si fa una ricerca, diciamo, antropologica. Però, per capire bene com'era questo stato, scendiamo un po' più nel dettaglio. Allora, in natura lo stato come vive, l'uomo come vive in natura. Non esiste nessun tipo di società della natura. L'uomo vive libero, in piena libertà, ed è assolutamente autosufficiente. ha dei bisogni, l'uomo, però sono bisogni minimi, quello di mangiare, di avere un riparo, di dormire, tutto ciò che gli serve per sopravvivere, in sostanza. L'uomo, nello stato in natura, non ha oltretutto nessun tipo di paura, non ha neanche paura della morte, ci dice Rousseau, perché davvero non pensa al futuro, non programma, ma vive semplicemente il presente e vive in armonia e in equilibrio con la natura e con le risorse che la natura gli mette a disposizione. Quindi, è un essere molto semplice. L'uomo nello stato di natura non ha desideri al di fuori di quelli che sono il minimo necessario per la sua sopravvivenza. Come sono i rapporti, però, tra uomo e uomo nello stato di natura? Per scoprirlo iniziamo a fare questa prima lettura. Sembra, a prima vista, che gli uomini, in questo stato, non avendo fra loro alcuna specie di relazione morale né di doveri noti, non potessero essere né buoni né cattivi e non avessero né vizi né virtù. A meno che, prendendo queste parole in senso fisico, non si chiamino vizi nell'individuo le qualità che possono nuocere la sua conservazione e virtù quelle che possano contribuirvi. Nel qual caso si dovrebbe chiamare il più virtuoso quello che resistesse meno ai semplici impulsi della natura. Non credo di dover temere alcuna contraddizione, accordando all'uomo la sola virtù naturale che sia stato costretto a riconoscergli il denigratore più esagerato delle virtù umane. Parlo della pietà, disposizione conveniente a essere così deboli e soggetti a tanti mali come siamo noi. Virtù tanto più universale e utile all'uomo in quanto precede in lui l'uso di ogni riflessione. È così naturale che le bestie stesse ne danno talvolta segni visibili. È dunque ben certo che la pietà è un sentimento naturale che, moderando in ogni individuo l'attività dell'amor di se stesso, concorre alla mutua conservazione di tutta la specie. Essa ci porta impulsivamente in aiuto di quelli che vediamo soffrire. Essa, nello stato di natura, ti è luogo di leggi, di costumi e di virtù, con questo vantaggio, che nessuno è tentato di disobbedire alla sua dolce voce. Essa distoglierà ogni selvaggio robusto dal togliere a un debole fanciullo o a un vecchio malato il cibo conquistato a fatica, se almeno speri di trovarne per sé altrove. Essa, in luogo di quella sublime norma di giustizia ragionata, fa agli altri quelli che vuoi fatto a te stesso, ispira a tutti gli uomini e quindi quell'altra massima di bontà naturale assai meno perfetta, ma più futile forse della precedente. Fa il tuo bene col minor male altrui possibile. In questo sentimento naturale, in una parola, più che negli argomenti sottili, bisogna cercare la causa della ripugnanza che ogni uomo proverebbe a fare del male, anche indipendentemente dalle norme e dall'educazione. Per quanto potesse appartenere a Socrate e a altri spiriti della sua tempra, da acquistare la virtù per via di ragione, il genere umano non esisterebbe più da gran tempo se la sua conservazione non fosse di pesa che dai ragionamenti dei suoi componenti. Ecco, in questo brano Rousseau dice tantissime cose di grande interesse. Questa è la cosiddetta teoria del buon selvaggio di Rousseau. Cosa ci dice? Allora, innanzitutto nella prima parte Rousseau dice che l'uomo in uno stato di natura non ha apparentemente né vizi né virtù, o meglio, siccome l'unico suo desiderio è quello di autoconservarsi, è quello, l'individuo virtuoso è colui che soddisfa i suoi impulsi naturali, che quindi riesce ad autoconservarci meglio, riesce a procacciarsi il cibo, riesce a procacciarsi un riparo, eccetera, eccetera. Ecco, però, da cosa è spinto l'uomo in uno stato di natura? Sicuramente dall'amor di se stesso, come ci riporta all'inizio del secondo capoverso Rousseau. Quindi l'autoconservazione è chiaramente l'istinto naturale, che spinge ognuno, ogni individuo, a cercare la propria sopravvivenza. Ma poi è anche fondamentale questo altro aspetto, la cosiddetta pietà. L'uomo in uno stato di natura prova verso i suoi simili un sentimento di pietà naturale, cioè prova compassione, il buon selvaggio, per lo so, è decisamente empatico e quindi non sottrae, ad esempio, il cibo all'anziano, al fanciullo, se non è in una situazione di assoluta necessità. Ecco, questa idea della pietà naturale potrebbe sembrare simile alla legge naturale che aveva ritrovato Locke, che diceva non fare agli altri quello che non vorrei essere fatto a me, quindi rispettare i diritti naturali degli altri. Però in verità, nell'ultima parte, arriva netta la critica di Rousseau nei confronti di questa concezione. Che cos'è la pietà? È un sentimento naturale. Ecco qua che ritorna la contraposizione di cui abbiamo parlato prima, tra sentimento e ragione. E Rousseau dice bene proprio nelle ultime righe. Per quanto potesse appartenere a Socrate, agli altri spiriti, a sua tempo, acquisire la virtù per via di ragione, il genere umano non esisterebbe più da gran tempo se la sua conservazione fosse dipesa solamente dalla ragione. La pietà è un sentimento, qualcosa di più originario della ragione stessa. Ecco, qui siamo proprio agli antipodi della concezione dello stato di natura di Hobbes, dove l'uomo era profondamente egoista e c'era questa situazione di guerra tutti contro tutti. No, per Rousseau l'uomo è buono di natura. Nel senso buono nel senso che è fuori dalla morale, ma è spinto dall'amor di sé soprattutto, ma anche dalla pietà verso di altri. Quindi non c'è nessuna ostilità naturale dell'uomo verso l'altro l'uomo. Quindi c'è una differenza sostanziale nel pensiero di Rousseau con quello dei pensatori precedenti. Nel senso che tutti quelli prima di Rousseau avevano attribuito all'uomo naturale delle qualità che in verità sono proprie dell'uomo civile. Ad esempio il desiderio di gloria, secondo Hobbes, che spinge gli uomini ad andare contro gli altri. Oppure la ragione che governa lo stato di natura, secondo Locke. No, tutte queste caratteristiche non sono proprie dell'uomo nello stato di natura, che è molto semplice e individuato solamente da autoconservazione e pietà naturale. Ecco, quindi in verità Rousseau critica il giusnaturalismo che inverte l'ordine delle cose. Nel senso che a questo uomo nello stato di natura veniva attribuita troppa lucidità, ha troppa capacità di ragionare e quindi invece l'uomo nello stato di natura è quasi in uno stato animalesco, potremmo dire. Ma quindi, mentre i filosofi precedenti dicevano che era la ragione a far superare all'uomo lo stato di natura, in Rousseau come avviene questo passaggio? Perché si esce da questo stato di innocenza e di purezza originaria? Ecco, secondo Rousseau innanzitutto questo passaggio avviene per lo più per motivi casuali. O meglio, sono le avversità ambientali, avversità climatiche, cataclismi, che spingono l'uomo a trovare delle soluzioni per affrontarle. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo, finché vive singolo, isolato dagli altri, fatica a sopravvivere in caso di un inverno molto rigido, in caso di alluvioni o altri cataclismi. Ecco, queste difficoltà ambientali spingono l'uomo a unirsi agli altri uomini, cercando di migliorare la propria condizione, cercando di unire le forze appunto per fronteggiare la natura che in alcuni casi può essere avversa. Ecco, quindi sarà questo fatto che darà via al processo di socializzazione dell'uomo, nel senso che non è immediato, in verità per Rousseau, il passaggio dallo stato di natura allo stato civile. Cosa significa? Significa che in queste prime piccole comunità originarie, per molto tempo gli uomini vivono felici, vivono in queste piccole situazioni di socialità, queste piccole comunità basate sulle singole famiglie che vivono e che collaborano tra di loro. Anzi, tanto che Rousseau dice proprio che questo è probabilmente il periodo più felice di tutta l'umanità, quello in cui gli uomini iniziarono ad associarsi e a vivere in piccole comunità in cui i desideri erano comunque limitati, minimi, facilmente soddisfabili. Però, in verità, già questo primo unirsi in queste prime piccole forme di comunità dà via a un processo di progressivo miglioramento materiale e tecnico, quindi si trovano strategie per affrontare le avversità della natura, si iniziano a costruire non più dei ripari rudimentali ma delle case, si inizia a organizzarsi per avere a disposizione di cibo migliore. Ecco, iniziamo questo progresso tecnico che però, vedremo, porterà con sé un progressivo peggioramento morale, perché a poco a poco si perderà quella spontaneità naturale, nasceranno via via i desideri e nasceranno le disuguaglianze. Ecco, questo è il passaggio fondamentale del discorso sull'origine della disuguaglianza e per capire come nasce la disuguaglianza e, in conseguenza, come nasce lo Stato civile, facciamo quest'altra lettura. Il primo che, cintato un terreno, pensò di affermare questo è mio e trovò persone abbastanza ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, quante uccisioni, quante miserie e quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato i suoi simili. Guardatevi dall'ascoltare questo impostore. Se dimenticate che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, voi siete perduti. È molto probabile che allora le cose fossero già arrivate al punto di non poter durare così come erano. Infatti, quest'idea di proprietà, dipendendo da parecchi idee antecedenti che non sono potute nascere se non in successione di tempo, non si formò tutto a un tratto nello spirito umano. Fu necessario fare molti progressi, acquistare molte abilità e molte cognizioni, trasmetterle e arricchirle di generazione in generazione prima di giungere a quest'ultimo termine dello Stato di Natura. Ecco, in queste altre bellissime parole Rousseau ci fa capire già qual è l'origine della disuguaglianza. Tutto nasce quando nasce la proprietà privata. Quando i primi uomini riuniti in queste comunità iniziano ad affermare, ad esempio, questo pezzo di terreno è mio, quest'albero è mio, questo prodotto è mio. Quando si afferma la convinzione che i frutti della terra, della natura, non sono tutti, ma che uno può reclamare per sé parte di questi prodotti, ecco che si afferma il concetto di proprietà privata e che porterà con sé delle gravi conseguenze, dice Rousseau, uccisioni, miserie, errori, eccetera, eccetera. Quindi tutto nasce con la nascita della proprietà privata. Finché gli uomini si contentarono delle loro capanne rustiche, finché si limitarono a cucire le loro vesti di pelli con spine di vegetali, con lischie di pesce, a ornarsi di piume e conchiglie, a dipingersi il corpo con diversi colori, a perfezionare e abbellire i loro archi e le loro frecce, a tagliare con pietra guzze e canotte da pesca o qualche rozzo strumento musicale. In una parola, finché si dedicarono a lavori che uno poteva fare da solo, finché praticarono arti per cui non si richiedeva il concorso di più mani, vissero liberi, sani, buoni, felici, quanto potevano esserlo per la loro natura, continuando a godere tra loro le gioie dei rapporti indipendenti. Ma nel momento stesso, in cui un uomo ebbe bisogno dell'aiuto di un altro, da quando ci si accorse che era utile a uno solo avere provviste per due, l'uguaglianza scomparve, fu introdotta la proprietà, il lavoro diventò necessario, e le vaste foreste si trasformarono in campagne ridenti che dovevano essere bagnate dal sudore degli uomini, e dove presto si videro germogliare e crescere con le messi, la schiavitù e la miseria. Ecco, qui ancora Rousseau ribadisce che col progresso materiale, nel senso, man mano che si inventano nuove tecniche, nascono anche nuovi bisogni nell'uomo. Nascono nuovi bisogni, non sono più bisogni solamente naturali, ci si accorge che è vantaggioso avere risorse per due, e puoi venderle magari agli altri, piuttosto che avere solamente quelle minime e la propria autosufficienza, nascono dei bisogni che non possono essere più soddisfatti da se stesso, ma che per essere soddisfatti c'è bisogno di qualcun altro, ecco che allora inizia a nascere la divisione del lavoro, e il concetto di proprietà diventa sempre più radicato, e quindi insieme a questi campi iniziano a germogliare anche la schiavitù e la miseria. Questa grande rivoluzione nacque dall'invenzione di due arti, la metallurgia e l'agricoltura. Per il poeta, a civilizzare gli uomini e a mandare in rovina il genere umano, sono stati l'oro e l'argento, ma per il filosofo sono stati il ferro e il grano. Ecco qui, innanzitutto, vediamo come Rousseau si distanzia da se stesso di tre anni prima, mentre sostanzialmente prima diceva che era soprattutto la cultura a rovinare l'uomo, adesso ormai è concentrato sull'economia, possiamo dire, e sulla proprietà privata. Nel senso a mandare in rovina l'umanità sono stati il ferro e il grano, cioè proprio la nascita di queste attività specializzate. Ecco l'uomo, che prima era libero indipendente, assoggettato, per così dire, a tutta la natura ad una quantità di nuovi bisogni e soprattutto assoggettato ai suoi simili di cui diventa, in un certo senso, schiavo, perfino quando ne diventa il padrone. Ricco ha bisogno dei loro servizi, povero ha bisogno del loro aiuto e la mediocrità non lo mette in grado di non farne conto. Ecco, quindi vediamo che gli uomini sono sempre più legati tra di loro, in un rapporto di mutua interdipendenza. il povero ha bisogno del ricco che gli dia da lavorare e gli garantisca di poter acquistare dei beni, il ricco però ha bisogno del povero per farlo lavorare. Bisogna dunque che cerchi senza posa di cointeressare la sua sorte, facendo in modo che, di fatto in apparenza, trovino il loro utile a lavorare per il suo utile. Ecco che qui sta parlando del ricco. Ciò lo rende astuto e ipocrita con gli uni, imperioso ed uno con gli altri e lo costringe ad ingannare tutti quelli di cui ha bisogno, quando non può farsi temere e quando non prova il proprio tornaconto a servirgli utilmente. Infine, l'ambizione che lo divora, l'assillo di elevare la propria e la relativa fortuna, non tanto per un vero bisogno, quanto per collocarsi al di sopra degli altri, ispira tutti gli uomini di una cupa inclinazione a nuocersi a vicenda, una segreta gelosia, tanto più pericolosa in quanto, per fare il suo colpo con più sicurezza, si mascola spesso da benevolenza. In una parola, concorrenza e rivalità da un lato, conflitto di interessi dall'altro e sempre il desiderio nascosto di fare il proprio interesse a spese degli altri. Tutti questi mali sono il primo frutto della proprietà e il corteo inseparabile della disuguaglianza nascente. Ecco quindi una delle ultime conclusioni, poi c'è un ultimo passaggio che tra poco vediamo, questa, la nascita della proprietà, la nascita di nuovi desideri, di bisogni, fa nascere nell'uomo anche questi sentimenti cupi, dice Rosso, questi sentimenti di egoismo, di invidia, di sopravfazione l'uno sull'altro, perché questi desideri diventano talmente forti che l'uomo cerca di soddisfarle anche a discapito degli altri uomini, ingannando gli altri uomini o schiavizzando gli altri uomini. Ecco che quindi quella spontaneità e quella pietà naturale si è ormai risolta. Vediamo l'ultimo passaggio. Uniamoci, disse Enrico, per salvaguardare i deboli dall'oppressione, tenere a freno gli ambiziosi e garantire a ciascuno il possesso di quanto gli appartiene. Stabiliamo degli ordinamenti di giustizia e di pace a cui tutti, nessuno eccettuato, debbano conformarsi, che riparano in qualche modo i capricci della fortuna, sottomettendo senza distinzione il potente e il debole a doveri scambievoli. In una parola, invece di volgere le nostre forze contro noi stessi, concentriamo in un potere supremo che ci governi con leggi sagge, proteggendo e difendendo tutti i membri dell'associazione, respingendo i comuni nemici e mantenendoci in un'eterna concordia. Questa fu, almeno probabile, l'origine della società delle leggi, che ai poveri fruttarono nuove pastoie e ricchi nuove forze, distruggendo senza remedio la società naturale, fissando per sempre la legge della proprietà e della disuguaglianza, facendo di una corta usurpazione un diritto irrevocabile e assoggettando ormai, a vantaggio di pochi ambiziosi, tutto il genere umano al lavoro, alla servitù e alla misura. Ecco, prima di commentare quest'ultimo passaggio, tiriamo un po' le fila del discorso di Rousseau e arriviamo a conclusione di questa lezione. Allora, abbiamo visto che è la nascita della proprietà privata che porta con sé la divisione del lavoro, il fatto che si inizia a produrre più del necessario, il fatto che iniziano a nascere dei nuovi desideri negli uomini, si afferma quindi il concetto che alcune cose possono essere considerate di proprietà privata di alcuni e non di altri, non più un bene comune. Ecco, con questo cosa nascono? Nascono le differenze sociali, ci sono i ricchi, ci sono i poveri, nasce l'abilità, nasce l'egoismo, nasce l'invidia ed ecco che si arriva a quella situazione di guerra tutti contro tutti che aveva già individuato Hobbes, ma ormai abbiamo visto come una importante differenza perché per Hobbes questa situazione era tipica dello stato di natura, per Rousseau invece è tipica della società civile e dello stato artificiale, quindi non c'è la guerra nello stato di natura, invece emerge quando gli uomini si uniscono in società. Ecco, arrivando a commentare l'ultimo passaggio, quindi, questa situazione di guerra contro tutti, contro tutti, però allora a questo punto genera un problema, genera un problema per tutti, genera il fatto che non c'è più la sicurezza, la vita di ciascuno è messa in pericolo e quindi ecco che per porre il remedio al caos si rende necessario un patto, ecco che anche Rousseau parlerà del patto, in questo caso il cosiddetto patto iniquo, un patto che garantisca, come abbiamo letto, la salvaguardia dei deboli dall'oppressione, tenere a freno l'ambizione, garantire a ciascuno il possesso di quanto gli appartiene, quindi un patto che garantisca la sicurezza di tutti ma che garantisca soprattutto il rispetto della proprietà ed è per questo che Rousseau parla di un patto iniquo, cioè un giusto perché la proprietà abbiamo visto è un inganno originario, non esiste la proprietà privata in natura quindi un contratto che va a salvaguardare la proprietà è un contratto iniquo perché qualcuno la proprietà ce l'ha e altri non ce l'hanno è in questo modo secondo Rousseau che nasce lo Stato nascono le leggi queste leggi però non sono altro che l'istituzionalizzazione delle disuguaglianze in natura non c'erano le disuguaglianze le disuguaglianze sono nate con la proprietà privata la proprietà privata ha fatto nascere la situazione di guerra tutti contro tutti e allora sono i ricchi a proporre la nascita dello Stato perché sono loro che hanno convenienza nella creazione di uno Stato e di leggi che garantiscano il rispetto della proprietà privata che hanno loro e li difendano dall'invidia e dalla possibile aggressione che invece la proprietà privata non c'è ecco che quindi la nascita dello Stato fa sì che i poveri si trovino cristallizzati in una situazione di inferiorità da cui non possono più liberarsi perché ci sono proprio delle leggi che garantiscono il fatto che chi ha la proprietà chi è ricco è in una posizione di superiorità ecco quindi abbiamo visto come Rousseau in questa parte arriva a criticare fortemente lo sviluppo della civiltà umana nel senso tutto il cammino della storia dell'uomo è opera dell'inganno dell'uomo sull'uomo e si basa sull'oppressione del ricco sul povero ecco poi Rousseau dice che non si può tornare indietro non si può sperare di poter tornare allo Stato di natura però anche se non si può tornare indietro in verità l'uomo mantiene sempre dentro di sé il desiderio di tornare a quella libertà originaria a quell'uguaglianza originaria e quindi Rousseau partendo da questo dialogo farà poi un passo finale nel senso che la critica da morale come ancora in questo senso diventerà poi una critica politica secondo Rousseau nel senso subiettivo a questo punto diventerà quello di scoprire quali sono i modi per riacquistare una nuova uguaglianza una sorta di nuova libertà per l'uomo per porre rimedio a queste disuguaglianze anche se non si può ritornare allo Stato di natura e quindi lui inizierà a cercare di scoprire quali sono le istituzioni e il tipo di governo più adatti a formare un popolo virtuoso che recuperi quella spontaneità e uguaglianza originaria e quindi secondo Rousseau sarà necessaria fare una rifondazione etico-politica della società per portare tutte a riappropriarsi di libertà e uguaglianza lo Stato in cui Rousseau vive la società in cui si vive è una società fondata su un patto iniquo sarà necessario un nuovo tipo di patto un nuovo tipo di contratto che sarà quello che Rousseau chiamerà il contratto sociale la grande opera in cui Rousseau appunto esporrà la sua idea del governo ideale del governo migliore per ritornare a garantire a tutti l'uguaglianza in cui esporrà veramente tutto il cuore del suo pensiero democratico ma queste cose le vedremo poi nella prossima video lezione per oggi terminiamo qua